ariete saturno benevolo frena e razionalizza la vostra irruenza evitando quelle azioni azzardate che fanno parte del vostro temperamento focoso e sono attualmente sollecitate da urano nel segno che esige cambiamenti di rotta e voglia di rivoluzionare qualcosa che non vi soddisfa toro giornata scorrevole l'umore è positivo e siete favoriti da sole mercurio e venere che allietano la vostra strada amplificando i consensi e il gusto dei piaceri grande espansione affettiva e amorosa novità nelle relazioni e nuovi incontri gemelli il contesto astrale che vi riguarda richiede una buona dose di pazienza le soluzioni tardano ad arrivare e questa fase di blocco irrita la vostra natura vivace e brillante lasciate che le situazioni si plasmino da sole con il trascorrere del tempo al momento cancro l'accumulo planetario nel segno offerto da sole venere e mercurio sottolinea un periodo di grande luce nel quale emergono molte opportunità sia nella sfera sociale e lavorativa sia in quella sentimentale giocate le vostre carte senza accedere alla pigrizia e all'indecisione leone oggi le percezioni emotive sono basse e nervose luna e marte dissonanti acquiscono la vostra sensibilità che tende ad ingigantire le problematiche controllate la tendenza ad affrontare le varie questioni in modo impulsivo e talvolta irragionevole siate ponderati vergine il vostro cielo astrale illumina un momento di grande favore di buoni successi è un fermento mentale e fisico che vi predispone ad elaborare nuovi programmi e concepire obiettivi più ambiziosi la forma psicofisica è alta le polemiche archiviate e i sogni in volo bilancia dovete attraversare una breve fase un po contrastata nella quale non riuscite a trovare una stabilità interiore l'amore si fa silenzioso appannato talvolta siete pervasi da un senso di solitudine che vi disorienta riflettete su ciò che desiderate realmente scorpione un fuggevole cedimento emotivo oggi potrebbe abbassare un po il tono dell'umore ma in realtà siete al centro di un quadro astrale davvero eccellente che vi permette di chiedere e di ottenere grande passione grinta e forza interiore vi contraddistinguono siete vincenti sagittario si profila l'alleggerimento di qualche tensione anche se le configurazioni astrali che vi riguardano non concedono molti favori gratuiti è un periodo nel quale blocchi e problematiche complesse vi mettono alla prova cercate di far emergere il meglio di voi stessi capricorno periodo di disarmonia interiore e qualche conflitto con chiamate e nelle relazioni in genere non mancano comunque effetti benefici che ancora sostengono il vostro impegno e producono buoni risultati ma il modo di vivere le situazioni appare più tormentato acquario poche novità nel vostro cielo astrale gravato da qualche dissonanza che influisce un po pesantemente sulle vostre giornate resta la determinazione a proseguire sul cammino che avete scelto cercate comunque di moderare la facile irritabilità pesci anche se non si verificheranno eventi eclatanti causa angolazioni disarmoniche di giove e saturno adesso potete contare su una fase di allargamento delle vostre esperienze di buone notizie di un accrescimento dei favori sentimentali e l'addolcimento di ogni rapporto buone stelle